Preghiera della Sera Signore, giunto alla fine della giornata di una settimana ordinaria di lavoro, mi ricordo che Tu hai esortato a pregare per ottenere operai per la messe. La messe delle anime è una grande sfida. C'è urgente bisogno di uomini e di donne apostoliche che nell'ambiente di lavoro e in famiglia siano pronti a fare la semina, a lavorare il terreno e a proseguire il lavoro di educazione cristiana, utilizzando sempre con diligenza gli strumenti e le direttive forniti dalla tradizione e dall'insegnamento della Chiesa. Amen.